Macelleria Alessandro Pari Ah ecco, mi dicono, mi dice la mia valletta perché finalmente è arrivata anche la valletta come si usa nelle migliori tradizioni ci vuole la valletta potevi arrivare prima, grazie ritira Arturo perché Macelleria Pari non sono potuti venire comunque sono terzi classificati, medaglia d'argento medaglia di bronzo medaglia d'argento, secondi classificati ah eccolo qua, ce l'abbiamo qui vicino mi dicono di chiamarlo Andrea del Bar Hollywood bravo Andrea, complimenti ti mettiamo la medaglia perché la grazie è meritata dice che è sconvolto dice che è sconvolto, aspetta che rimaniamo un attimo per la foto la valletta vieni Alessandro, vieni con me hai lavorato fino adesso, è giusto che c'è anche te arte pizza, prima classificata medaglia d'oro ha venduto la bellezza di 28 blocchetti ma sono un'esagerazione scusate e arte pizza eccolo qui complimenti grazie siete stati veramente fantastici a collaborare questa cosa guardate la foto ragazzi Eva vieni Eva vieni Alessandro Alessandro che adesso bisogna portarlo a mangiare il gelato è stato esemplare è stato bravissimo